Exoratics, diciamoci la verità, avete mai visto una berlina con un colore più bello? Peugeot 308 con il nuovo restyling, 1.5 di cilindrata, 130 cavalli, allestimento all'urpec, scopriamola insieme. Stiamo parlando di un autoveicolo a chilometro zero, cosa significa? Significa che l'auto è completamente nuova, solo già immatricolata ad aprile 2021. Alimentazione diesel per un consumo reale misto di 3,7 litri ogni 100 chilometri. E il colore è veramente da vertigini, infatti si chiama, non a caso, blu vertigo. Guardate come spiccano i dettagli cromati, a bordare la finestratura. E bellissima è la mascherina con il contorno cromato e vi mostro anche i giochi di luce delle listarelle parallele a incorniciare il logo Peugeot. Il gruppo ottico anteriore più aggressivo si allunga sulla fiancata, viene ripreso dai led sugli specchietti retrovisori esterni. Mentre i vetri posteriori e l'1.8 sono privacy glass per garantire privacy e protezione dai raggi solari. Di carattere la striscia in nero lucido a separare la finestratura e non mancano poi le scanalature che ne definiscono i volumi. I cerchi sono il lega bicolor multirazza da 16 pollici e il battistrada è in perfette condizioni. Il bagagliaio è dotato di luce alogena di cortesia sulla destra e parte da una capienza di 420 litri. Abbattiamo i sedili posteriori frazionabili 60-40 con questa praticissima leva. E abbattendoli entrambi arriviamo a quasi 1000 litri di capienza. Grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere è agevolissimo accedere all'abitacolo. E all'interno troviamo tantissima eleganza, comodità e spaziosità e soprattutto luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. I sedili sono in tessuto. Bellissima è la texture. La texture sagomati con cuciture a vista e dotati di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. Lo schienale del passeggero centrale inoltre è estendibile e diventa un praticissimo bracciolo con doppio portabibite. E abbiamo anche una botola per un accesso diretto al bagagliaio. Super curato è anche l'interno delle portiere con inserti cromati e poggiabraccio in tessuto effetto soft touch. Il sistema di accensione è start and stop keyless. Bellissima, super elegante e minimalista è la plancia di tecnologia i-cockpit che si sviluppa orizzontalmente con il quadro strumenti posto in posizione rialzata interamente in digitale. Il volante è piccolo e maneggevole a tre razze con inserti nero lucido e cromati ed è dotato di numerosi tasti per accedere all'infotainment. Posteriormente troviamo il paddle per le cambiate manuali e non può certo mancare la levetta del cruise control con limitatore di velocità. Dal praticissimo display incastonato al centro della plancia tra le bocchette dell'ariazione possiamo gestire tutto l'infotainment attraverso i comodissimi shortcut. Abbiamo accesso alla radio, alla navigazione, possiamo accedere al clima che è automatico e bizona e connettere il nostro smartphone attraverso bluetooth e attraverso apple carplay e android auto e possiamo accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura e i sistemi di assistenza alla guida. Inferiormente troviamo un vano porta oggetti preso da 12 volt ingresso USB. Il cambio è automatico e il freno di stazionamento è elettrico ma non manca la possibilità di scegliere la modalità di guida tra sport ed eco. Vano porta oggetti con porta bibite a scomparsa e un ulteriore vano porta oggetti sotto il bracciolo centrale che è estendibile. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale, supporto lombare, inserti in pelle e sono davvero morbidissime. Inserendo la retro inoltre abbiamo accesso alla retrocamera e ai sensori di parcheggio perimetrali per parcheggi no stress. Ed eccoci alla fine di questo video e quindi al momento del piccolo reminder per te. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com dove potrai riservare la tua auto per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro e potrai prenotare una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua con il nostro servizio di consegna a domicilio con ingienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social e di scriverci che cosa ne pensi qui sotto. Alla prossima auto!